Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida raccogli anelli fluttuanti a Parco Pacifico. Viene richiesto un solo anello che potete trovare qui, praticamente nel punto esatto dove ho posizionato il segnalino. Se andate a Parco Pacifico, in alto qui, in questo punto qua, trovate subito un anello, quindi completerete la sfida. Vi anticipo che questa è una delle sfide della quarta settimana, quindi saranno disponibili dalla prossima settimana. Io ve le mostro in anteprima. Quindi dovete atterrare praticamente qui, non potete sbagliarvi, e troverete subito ad attendervi un anello da raccogliere, come potete vedere, eccolo, per completare la sfida. Quindi atterrate qui, precisamente qui dove vi ho mostrato, raccogliete l'anello e completate la sfida. Ecco qui il punto, non potete sbagliarvi, così completerete appunto la sfida.